Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Yookawatch Italia Bentornati in questo nuovo video Oggi siamo in un nuovo episodio Anzi, primo episodio in realtà Di pullo negli account degli iscritti O più o meno questo sarà il nome della serie Ora magari lo cambieremo però L'idea è questa Infatti non siamo nel nostro account Solito di PuniPuni Ma siamo nell'account di un iscritto Ovvero AndreaYT Che mi ha detto Se potevo registrare un video Nel suo account ragazzi E questo account Come vedete non ha tantissimissima roba Ma comunque ha come per esempio Questo ZZ che è esclusivo Gnambo Che adesso sinceramente non so Come si chiama Però direi che ci sta Cosa andiamo a fare in questo video Mi ha lasciato da pullare 9000 punti Quindi sono essenzialmente Due molti E abbiamo anche due Gnambo Una ce l'abbiamo già Pronta per essere pullata L'altra invece La andiamo a sbloccare adesso Ovvero facendo Completando lo stage 45 senza continua Sblocchiamo anche la seconda Gnambo Quindi sarà un video un pochettino hot Vediamo se riusciamo a pullare qualcosa Fatemi vedere se qua l'audio si sente Si sente molto bene Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Like E andiamo subito Subito A battere il boss Che è appunto la ZZ Speriamo di trovare la ZZ Così almeno può finire anche lui l'evento Anzi fatemi sapere Quanti Quanti punti avete voi Noi comunque stiamo continuando a farmare con l'autoclicker E a breve credo arriverà un video su come si sente l'autoclicker Non vi preoccupate Proviamo anche questo ZZ qua che non ho mai sinceramente provato Vediamo un po' cosa fa Fatemi vedere Animazione incredibola Ah ricarica mi sa Ricarica gli energy max Ok quindi è un refiller in poche parole Va bene va bene Ci facciamo anche velenotto Andiamo a battere vellutissimamente giù il boss E ora andiamo subitissimamente a pullare ragazzi Perché ovviamente questo video è più che altro un video pull Ok se volete se volete che anche voi parteciperate a questo video Scrivetemi su telegram vi lascio il mio username in descrizione E magari se volete voi posso anche entrare in altri account di altri iscritti Per fare poi altri video spacchettamento Magari vi magari preparate non lo so due o tre molti Più magari una o due gnambo coin e me le fate pullare a me nel video Per vedere se esce qualcosa di interessante Fatemi sapere comunque se volete c'è il gruppo telegram in descrizione Poi da lì mi contattate a me in privato o comunque a jackpot Riuscite ci mettiamo d'accordo e facciamo anche un altro video Allora andiamo ragazzi subito 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 cattivi proprio Abbiamo fatto il boss Adesso andiamo dal vecchietto Andiamo dal vecchietto ragazzi il vecchietto va sempre aiutato Aiutate il vecchietto Dategli quei 100 yen ogni tanto che possono essere utili Ok andiamo a fare anche l'altra quest Ed ecco qua la seconda gnambo coin Adesso che abbiamo due gnambo coin Direi che facciamo una gnambo, una multi, una gnambo e una multi Direi che possiamo finire qua Allora partiamo subito con la prima Vediamo un po' Iscrizione Avete uscito like Dai che voglio trovare no ad Andrea Vai vai Andiamo con la prima Andiamo con la prima Giriamo Vediamo un po' Attenzione Whisper ovviamente Whisper maggior domo Vediamo un po' No ok 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 Questo SS ce l'aveva già Ce l'aveva già Rip 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 Ripperotti Rip perotti Andiamo con la multi Purtroppo non ci sono i rate up dello ZZ Però noi comunque proviamo a pulare lo stesso Andiamo con la prima multi Poi facciamo un'altra gnambo e un'altra multi Gira No tutta rossa no bro dai Non mi puoi dire così No che scammata Apriamo tutto Apriamo tutto Apriamo tutto Che non si sa Non si sa comunque Ci sono i rate up Bia blu Attenzione ZZ Della Bia blu Della Z della Bia blu No niente ok Sono Questo rango B Completamente inutile Però potrebbero comunque uscire i triple S Ci sono i rate dei triple S Aumentati Quindi vediamo un po' Ma? Perché questo Komazan è livello 0? Ma? What the fuck? Un Komazan è livello 0? Ok Non ho mai Va bene Attenzione Bia rossa Cosa sarà? Olè Triple S Eccolo qui Fra Tosto Che Un po' inutile Non è che Ha bonus molto particolari Ha bonus nella mappa Attacco e difesa Attenzione Troviamo anche l'altro Troviamo anche l'altro Nella multi No Sirena Va bene La sirena Va bene Se avessimo trovato i due triple S Nella multi Sarebbe stato un super Ipermigo video Contenutistico Assai contenutistico Già che abbiamo trovato un triple S Oh Tizzo è un'altra Bia Ma cos'è? Ma cos'è? Ah ok No niente Rango B Rip Io ho sempre quel brividino Che può essere Lo Z Lo Z Però in rossa Non ci può essere Lo Z Z Quindi Vai Ok Abbiamo un'altra Bia Che si muove Cos'è? No un altro Rango S Va bene Va bene Va bene Comunque quel Komazan Livello 0 Non capisco Ah vabbè Ah me l'ha dato Sì ok Perché c'è stato lo spoilerino Da Va bene ok Ci stava Ci stava Abbiamo trovato un triple S Non che sia un triple S Fondamentale Se fosse stato Kaldokan Avevo potuto iniziare A magari rubare Il quanto sigillo Però va bene Andiamo a sfruttare L'altra Gnambo Vediamo un po' Gira 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 Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Dammi Noah Oh Kirasanta Kirasanta Questa non ce l'ha Questa è interessante Questo è interessante Se stava una volta Al posto di Enmasole Al vecchio Pulipuri Quanto mi manca? Andiamo adesso Con l'ultima multi Ragazzi Andiamo con l'ultima multi Vediamo un po' Che cosa troviamo Cacciami Una Rainbow Va bene Oro 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 va bene Uè tre oro Tre oro Tre oro Calma 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 che qua può uscire roba Fermi tutti Fermi tutti Qua può uscire roba Ok adesso come ho andato a livello 2 Ma? Andato a livello 2 Era a livello 0 Non ho capito Vediamo un po' QBSS Ok QBSS è un po' così Nel senso Non è Non è fortissimissimo Io spero che l'audio si senta Passiamo ancora un po' Oh Un segreto Bene bene Segreti sono sempre ben apprezzati Andiamo Ok Un'altra via che si muove Vediamo un po' Un altro SS inutile Va bene va bene Abbiamo le tre oro Signori Abbiamo le tre oro Abbiamo le tre oro Vediamo un po' Abbiamo le tre oro Da quale partiamo? Partiamo da questa Ok Dai Cacciami Lo ZZ No va bene va bene Lui Insomma Insomma Che lui è abbastanza Abbastanza inutile Abbastanza un po' Schifosetto Come Come io Ok Andiamo con l'altra No Di nuovo lei Andiamo Oh Un altro segreto Un altro segreto Va bene va bene E noi abbiamo trovato Chissà quanto Secondo me se pullavo Neri tappo Dello ZZ Poteva uscire Beh Abbiamo trovato Il nostro mitico Fratosto Nulla di che Insomma Poteva essere Molto più Contenutisti Poi ci sono le solite Missioni Dello ZZ E niente ragazzi Questo era il video Sull'account di Andrea Grazie Lo ringrazio ancora Che mi ha potuto Fare entrare Nel suo account Per fare questo video Vi ricordo Che se anche voi Volete partecipare A questa serie Dove entro Nei vostri account E magari Vi cerco Un determinato Yokai O Vi pullo Volete pullare Volete farvi pullare A me magari L'Ukai di meta evento O dell'egnambo Scrivetemi su telegram Il link è in descrizione Per ora io vi saluto E vi do appuntamento Ad un prossimo Video Ciao ciao